buongiorno buongiorno oliver ciao oliver ciao ciao olivia ciao dorothy ciao e poi chi c'è e poi chi c'è un attimo andiamo a vedere andiamo 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 aspetta mi accendo la luce se no non si vede niente ok ecco rudy ecco vasco ecco core ecco core lì eccola vasco e poi abbiamo 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 pablo eccolo eccolo pablo eh piano cosa fai facci vedere bene da mamma allora c'è una bimba piccola stanno mangiando non vogliono essere disturbati ecco bimbi bimbi fatti sentire tu ma quello è vasco vasco oliver core eccolo che zampetta core vabbè eccoli qua ciao ciao ciao